Gli uomini che aggredirono le donne a Colonia la notte di Capodanno non sono colpevoli. Lo dice l'imamma della moschea salafita Altawed della città tedesca dove a San Silvestro sono state decine le molestie per strada compiute da individui descritti come arabi o nordafricani. Secondo Sami Abu Yuzu, intervistato da una televisione russa, la colpa degli abusi sarebbe da ricercare nelle vittime stesse. Le donne, finora sono 521 le denunce, erano vestite all'occidentale quindi in modo sconveniente e avevano un profumo in grado di istigare gli uomini alla violenza.